Sociale, emozionale, culturale, ambientale, sportivo. Il turismo ha molte facce e ognuna di queste rappresenta un fronte d'espansione e sviluppo. Declinazioni diverse in grado di attrarre un interesse diversificato e complementare per un brand universale come quello di Toscana. Il nostro paese si fa forte di bellezze e ricchezze che vanno ben al di là del confine regionale. Ciò che unisce questi percorsi turistici sono i principi condivisi. E' anche soprattutto di questo che hanno discusso operatori, stakeholder territoriali e istituzioni in occasione dell'edizione zero di Meet Tourism Lucca, un evento organizzato dalla Federazione Europea itinerari storici, culturali e turistici insieme a Toscana Promozione Turistica, Fondazione Campus, itinerari religiosi interculturali accessibili e Fondazione Promo PA. Il turismo è stato visto in passato troppo superficialmente come un'attività collaterale che non ha bisogno di competenze specifiche, non ha bisogno di particolari investimenti, una sorta di frutto che matura da solo. E' a tutti gli effetti un'attività di impresa che presuppone elevate competenze, investimenti importanti, continui aggiornamenti, capacità di fare rete, di fare sistema, di programmare, di portare in questo settore sempre nuove competenze. E quindi far comprendere che in questo mondo ci si sta in maniera seria se siamo degli imprenditori e se il soggetto pubblico e il soggetto privato fanno coerentemente ciascuno la propria parte. Itinerari culturali e destinazioni d'eccellenza. È questo il sottotitolo dell'evento che in quattro giorni ha proposto sei workshop, tutti sold out, tre corsi di formazione, cinque mostre, 105 relatori e 42 incontri, ben 27 le associazioni presenti, 16 le nazioni coinvolte. Iniziative come quella di oggi, mirate specificatamente a un campo, ma quello dei cammini, del turismo lento, del turismo culturale, sono apparentemente una nicchia ed è invece la parte più dirompente, più strategicamente e potenzialmente dinamica della nostra offerta. Noi dobbiamo far sì che insieme a ciò che c'è ci sia il contributo dell'intelligenza e dell'attenzione e della nuova competenza, della consapevolezza che la competenza che va rivolta in questo settore corrisponde ad una responsabilità, quasi un obbligo e un dovere verso la comunità. Fare buona economia ma mettere anche sul tavolo una narrazione che esalti i valori che questa cultura può mettere a disposizione. Gli incontri di Lucca hanno favorito il dialogo tra il territorio e gli operatori, non solo quelli commerciali ma anche travel designer, destination manager, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche. L'obiettivo è di fare sistema e occorre guardare all'Europa e al mondo, soprattutto se si pensa che il turismo culturale, in crescita sia in Toscana sia nel resto d'Italia, al 60% è costituito da presenze straniere. Due o tre giorni di riflessione sulla quantità ma soprattutto sulla qualità del turismo, sui fenomeni di turismo da incentivare e quelli invece su cui cercare di governare di più i fenomeni perché è chiaro che non tutto è positivo. Quindi capire, fermarci un attimo dove andiamo, cosa vogliamo e quindi cercare di fare crescere quella qualità dell'offerta turistica che vada verso un turismo compatibile, lento, insomma quello che in questo momento molte città in Italia e anche fuori dall'Italia si stanno chiedendo. Credo che Lucca possa dare un contributo a questo. Lucca città di Toscana che è un brand di per sé nell'ambito del brand Italia perché assorbe e fa risplendere tutte le migliori caratteristiche rappresentative del nostro paese. dall'enogastronomia alle produzioni tipiche fino al paesaggio e all'arte, una bellezza che da sola potrebbe non bastare. Il lavoro che c'è da fare in termini di promozione per la Toscana considerando che è così consolidata come anche a livello internazionale nei mercati di riferimento è quello di classificarla per i prodotti più innovativi e sicuramente i prodotti culturali legati al turismo lento, ai temi della sostenibilità e del digitale, direi questi tre temi sono i temi per cui bisogna classificarsi con un'offerta innovativa. Quella dei cammini come quella delle ciclovie, dei treni storici e dei borghi non sono temi per dire che tutti i turisti all'improvviso andranno in bicicletta o piedi, ma è per dire che c'è un modo diverso di fare turismo. Questa ricchezza che a elencarla sembra scontata in realtà va articolata in prodotti turistici, in servizi e prodotti turistici anche innovativi, anche attraverso l'uso del digitale che sarà il turismo del futuro. Quindi coniugare sostenibilità e digitale è un po' la sfida per l'Italia e per la Toscana in particolare.